Ciao a tutti legionari, sono Alessio PCM, vi do il benvenuto e il bentornato sul mio canale e oggi continueremo la nostra campagna su Earth of Iron 4 con il nostro meraviglioso nuovo impero ottomano. Come al solito vi invito a commentare e vi ricordo che come ho detto nello scorso video, adesso sto registrando in un unico giorno alla settimana e quindi questo video l'ho registrato subito dopo aver registrato il precedente, quindi ai vostri commenti risponderò, ecco mi sfuggivo al termine, ma non ne parlerò direttamente nel video dato che fisicamente non li ho ancora. In ogni caso farò un vlog a sé in cui parlerò di questa cosa qua. Allora ragazzi, teoricamente noi fra poco potremmo avere, potremmo avere gli strategic bomber e potremmo essere in grado di lanciare le nucleari e questo mi fa molto piacere. Poi diminuiamo un attimo le importazioni, ok, che tanto non abbiamo bisogno di tutto quell'acciaio, come potete ben vedere siamo in surplus, quindi tanto vale sfruttare queste fabbriche, invece che buttarle così. Ok, vediamo se siamo ancora in surplus. 39, sì, stiamo importando anche della gomma, che direi che ormai non ci serve più a niente importarla. Ok, no, ho sbagliato. Queste qua ragazzi sono tutte fabbriche che tornano a lavorare per noi e che costruiscono i reattori nucleari. Vi ricordo che abbiamo quattro bombe nucleari, ed è una bella cifretta per noi secondo me. Ok, perché importo ancora questi? No, io non voglio più importarli. Niente, non è possibile interromperlo. Ah no, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ok, diminuiamo le importazioni anche d'acciaio dalla Spagna. E anche dall'Italia siamo costretti perché tanto non ce la spediscono. Ah, hanno chiuso l'economia nuovamente. Sti infami. Ok. E direi che così siamo a posto. Vediamo un po'. Sì, abbiamo ancora un surplus allucinante. 8, 16. E va bene, adesso dovremmo essere a posto. Perfetto. Poi, vediamo se posso creare finalmente un nuovo stormo aereo. Tra l'altro ne ho spostati due al confine cinesi, ma non si sono ancora mossi. Su ragazzuoli. Non mi aveva preso l'ordine a quanto pare. Ok, questi qua sono nei cili del Western China, però questi qua non si erano spostati. e non capisco il perché. Troppo vicino al confine, forse. Li preoccuperà quello? E chi lo sa, ragazzi? In ogni caso, ok, adesso si sono spostati e effettivamente ammetto che è abbastanza pericolosa come posizione, quindi magari spostiamoli qua indietro. Però in ogni caso voglio che lavorino nel Southern China. Va bene. E dato che lo stanno facendo, mi va bene così. Poi, oltre questo, a che punto sono i nostri uomini per l'operazione Malaya? Ancora lontani, lontani, molto lontani. E lo sbarcho in Normandia non sta andando troppo male per gli alleati, ok. Questa armata qua deve intervenire. Deve intervenire e la facciamo mettere qua a sud. Mi spiace non proteggere più questo punto, ma non ne siamo più in grado. Adesso piuttosto, piuttosto, metto questi qua a pattugliare questo punto. Oh, l'Italia che si arrangi, non mi vende neanche più l'acciaio a sto punto. Non è che posso essere il guardiano di... il loro guardiano. Oh, bene, finalmente. Finalmente possiamo nuclearizzare qualcuno. Vediamo un po'. Devo avere il 75% della superiorità aerea nella regione. Ok. E devo avere naturalmente uno strategic bomber. Va bene, creiamo un nuovo air wing. Tactical, transport, heavy fighter. non me li ho ancora costruiti a quanto pare. Ma aspettate, io sto facendo lo strategico cosa? Sì, sto facendo quello. Sì, ne produco ancora però pochi. Questo è un bel problema. Continuiamo a pompare la produzione, ragazzi. Dai che li nuclearizziamo tutti adesso. Tra l'altro, se ben vi ricordate, una nucleare è stata già lanciata su Creta. E però non ne ho visto i risultati, sinceramente. Quindi, bah. Quindi, bah. Sono molto curioso, inoltre, di vedere come sarà la patch per Death and Dishonored. E penso che sarà molto interessante. Molto, molto, molto. In ogni caso, ragazzi, davvero abbiamo un bisogno allucinante di caccia, anche. Quindi, a sto punto. Allora, fighter ne stiamo facendo già un casino qui. E ne stiamo facendo altri. Abbiamo bisogno anche dei closer support, che li dobbiamo aggiornare più che altro. Stiamo aggiornando un po' di equipaggiamento di fanteria, però dimezziamo la produzione per andare sui fighter. Non per altro, ma se non abbiamo la necessità, ho più bisogno di rinfoltire i nistormi di fighter per proteggere poi lo strategic bomber, naturalmente. ok, ok, ok. Un altro stormo di fighter, grazie. Perfetto. E i due che avanzano li andiamo a mettere sullo strategic. Però abbiamo bisogno di alluminio, stranamente abbiamo bisogno di importare qualcosa. Non l'avreste mai detto, lo so. Allora, basta importazioni di acciaio da qua, che non ci servono al momento. In realtà non ci serve più importare acciaio in questo momento, ed è fantastico. Molto meglio, così. Ma dobbiamo importare l'alluminio. L'alluminio lo vado a prendere dall'Ungheria, grazie. Per abbondare ne prendiamo 24. Perfetto. Ok, direi che dal punto di vista commerciale adesso stiamo messi bene. Vediamo un attimo Year Wings. Oh, abbiamo un Tactical, ragazzi. Ne abbiamo uno. Cominciamo a spostarlo qui. No, però aspetta, voleva lo strategic. Ma vaffanbagno, dai. Ah, vabbè. Operazione Europa-Feraint. Non ti ho dato il piano, me ne stavo quasi dimenticando. Ti ho dato anche un confine un po' grossino, eh. Devo ammettere. Piuttosto preferisco che voi copriate solo questo punto qua. E la vostra missione vorrei che fosse questa. Innanzitutto. Innanzitutto deve essere quella, e poi vediamo nel caso se fargli fare qualcos'altro. Ah, guarda gli inglesi che li provano a sbarcare. Periodicamente un tentativo lo fanno. Abbiamo bisogno di rinforzi. Decisamente. Meno male che ho lasciato il gruppo di motorizzati che quindi si muove abbastanza velocemente. Però questo non gli ha impedito di sbarcare in un punto, eh. Dannati. Dannati davvero. Guarda lì che li sbarcano. Ce la possiamo fare però, ragazzi, a resistere. Ne sono convinto. Mi dà fastidio però vedere la mappa così. Perché dice che l'allocazione... No, non capisco perché... Ah, perché è il punto che quell'esercito sorveglia. Ok. E così non me lo fa più vedere in quel modo. Meno male perché era davvero fastidioso. Non dico che mi faceva bruciare gli occhi, ma quasi. Allora, Tactical Bomber, non mi interessi. Io voglio lo strategic. Su. Eccone due. Sì, sì, finalmente. Ma serve che vi assegno a questo confine? No, 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 no. Divisioni non assegnate. Oh, una Panzer Division. Panzer Division che metto con piacere... Qua a nord. Sì, direi di sì. E allora, fammela assegnare però. Net. Ok, qua. Facciamogli subito partire l'offensiva, tanto non serve che quella gli stia attaccata al culo. Ne abbiamo anche un'altra. Ah, adesso abbiamo... Giusto. Le divisioni di guarnigione. Dove abbiamo gente che rompe le balle? Un po' avunque, dire il vero. Vabbè, li andiamo a mettere in questo territorio, quelli. Ok, facciamo un nuovo esercito, quindi. Fanno abbastanza pena, eh, sti qua. Devo dire. No, non fullback line, che è quella per la ritirata, tipo. Scusate, per la difesa elastica, ecco, mi sfuggiva. Proprio non mi veniva in mente come Diamine si chiamava. E allora, dovete quindi fare Garrison. Ditemi che ho scelto il punto giusto. Sì, ok, perfetto. Perfetto. Dovete fare da guarnigione lì. E molto bene. Quali avete... Li avete massacrati? Più o meno. Più o meno. Andate a far fuori sti stronzetti. Chi si credono di essere? E là siamo a posto. Va bene. Non posso ancora dropparci la bomba nucleare. Probabilmente perché sta ancora spostando gli strategic bomber. Sì, infatti. Li sta spostando dalle riserve e arriveranno il 21 marzo. Quindi, beh, ce n'è di tempo. Non c'è fretta. Mettiamola così. Il confine però sta rimanendo stabile e noi come Manpower siamo messi anche abbastanza bene adesso. Fortunatamente anche perché dopo aver cambiato nuovamente il sistema di reclutamento e aver conquistato parte della Cina, mi aspettavo, sinceramente, che riuscissimo a reggere un po' di più. Poi, costruzioni. Stiamo andando molto bene anche qua, eh. Abbiamo ancora il focus per le riparazioni. Sì, ok. Perfetto, perché non smetteranno mai di romperci le balle i dannati partigiani. Che in questo gioco sì, sono dannati partigiani perché rompono il cazzo. Siete pronti ragazzuoli? Quasi. Potrei giustificare contro il Tibet in questo momento. Allora, giustifica, conquista, Tibet. 25 giorni, tempo che i nostri uomini si preparano. Perfetto. Erwin senza missione. Perché non serve che tu abbia una missione. Tu non hai una missione, avrai la missione. E si va. Ragazzi, si va. Vediamo se ce la facciamo. Voglio abbassare la velocità per vedermelo bene bene. Sperando che non ce lo abbattano. Boom! Ragazzi, ho provato una soddisfazione allucinante. Wow! Della serie Io sono diventato il distruttore di mondi. Oh, però, non hanno fatto una piega, eh. Non hanno fatto una piega verso la capitolazione. Cioè, in fondo io sono lanciato una nucleare sulla città. Cosa vuoi che sia, in fondo. Davvero? Neanche una piega? Tosti! Tosti davvero! Caspita! Quasi quasi ammazza tutti i nemici che ci sono qua, adesso. Farò ripiegare questi qua, però sono sotto attacco. In ogni caso, aspettate un secondo. Che abbiamo altre unità di guarnigione. Due, in realtà. Dov'è che mi servite? Uno, due, tre. Ok, mi servite in questo punto qua. E farò un gruppetto tutto per voi. La provincia era questa. Una di queste due. Oh mio Dio, non è possibile, eh. Ok, perfetto. Dannazione. Dovevo creare il gruppo prima. Ok, ce la possiamo fare adesso. Uno, due, tre. Ok. E abbiamo la guarnigione anche là. Di polizia militare. Però ragazzi, mi sembra improbabile che, voglio dire, lanci una nucleare su di loro e non fanno una piega. Cioè, un minimo, un... Il segno che sono dispiaciuti, qualcosa. Ah beh, adesso vi faccio vedere io. E non c'è una nucleare anche qua. Adesso voglio vedere. Tra l'altro ci stiamo difendendo. Ah, sì, sì. Spostatevi, spostatevi. Tranquilli. Eh, tra l'altro anche voi. Se vi spostate un po' indietro magari... Ok. Devo dire che è stato molto divertente. Spero di non aver fatto male ai miei uomini. Lo so che non vi farà bene attaccare lì. Cioè, ma... Ragazzi, ma fanno cagare ste nucleari. Se l'unico risultato è questo. Cioè, io ho sganciato due nucleari e non fanno una piega? Ma dannati. Dannate bestie. No, no, niente, niente. Cosa vuoi che sia una nucleare sul culo? Ma porca miseria. Anche poi mi aspettavo. Gli nuclearizzi la capitale. Saranno perlomeno tentati di arrendersi. Oh. Cosa vuoi che sia? E che diamine. Ah, qua non ho superiorità aerea, quindi non posso. Loro potrebbero partire con la loro offensiva, dai. Vediamo se riescono a fare qualcosa. Comunque davvero, ragazzi. Ma aspettavo di più dalle nucleari. Cioè, pensavo che facessero molto più male. In ogni caso, però, possono essere utili per fiaccare un pochino la resistenza nemica. Tipo, qua forse ce la stiamo facendo a sconfiggere i ragazzuoli. Forse. Non voglio essere troppo precipitoso, eh. Fortunatamente almeno non segnala i danni. Non segnala danni, ecco. Mettiamola così. Dai, speriamo che ce la facciano ad avanzare adesso. Con tutte le nostre forze lo facciamo. E dicevo, stavo togliendo comunque dei porti qua, perché voglio puntare di più sui reattori nucleari. Per fare le bombe più velocemente. 2,4% al giorno. Troppo, poco. Ne voglio una al giorno, cazzo. E se non una al giorno, quasi. Comunque quindi dobbiamo farci molti altri reattori nucleari. Gli nuclearizziamo il mondo qua, ragazzi. Dai, proviamo a far partire anche questi. Oh, ma guarda quanta gente simpatica che c'è là sopra. Tra l'altro è sempre questo, eh, il punto. Quindi non capisco perché non mi faccia... Lanciare la bomba. Perché 18 unità nello stesso punto sono una tentazione molto forte, ma non me lo fa fare. Non me lo fa fare. Avrò perso i due strategic bomber? No, ci sono. E allora? What's the problem? Uniamo tra l'altro i due stormi. Sì, non me lo fa fare. Ah, perché devono naturalmente raggiungerli, giusto, giusto. È cosa buona e giusta. L'avanzata in Cina continua quindi, ragazzi, ma... Decisamente a rilento, per i nostri gusti. Tra l'altro... Il caso sbelli, tra quanto è pronto contro il Tibet? 17 aprile. Manca così tanto. Ah, perché sto facendo andare lentamente, scusatemi. Mi sono imbambolato io, mi sono fissato col nucleare e quindi niente. Non ci ho capito più niente. Tra l'altro, voi vi state difendendo, però uno di voi, se fa questa mossa qua, non è per niente una brutta idea. Qua con gli attacchi non ce la stanno facendo, quindi... Rinunciate all'offensive. Niente. Niente, troppo stupidi per rinunciare all'offensive qui. Dai, piano piano ce la facciamo, ragazzi. Abbiamo anche qualche altra fabbrica militare. E vediamo cosa ci serve. Ok, 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 siamo a posto, siamo a posto. Con lo self support siamo messi bene, ma non benissimo. Dai, rimettiamo le due qua. E cos'altro facciamo? Dai, pompiamo ancora i fighter. L'industria dei fighter, perlomeno. Ah, tra l'altro qua, vedo che non ce la sta facendo. Mandiamo gli rinforzi. Sì, magari se uno rimane qua, però, è cosa buona e giusta, eh. Rimani qua a pattugliare un po' il confine. Cosa state aspettando voi qua sotto? Che cresca l'erba? Altri porti disponibili? Un bel po' di altri porti disponibili, perché abbiamo finito di fare i cruiser. Bene, ne abbiamo altri sette. E andiamo a fare... I destroyer li abbiamo fatti. Andiamo a fare i light cruiser. Ok. E così va bene. Perfetto. Tra l'altro fra pochissimo avremo un'altra nucleare. Smettetela di attaccare qua, che non ce la potete fare. Perlomeno non così come state facendo voi. Magari se fate una cosa del genere, se focusate un po' gli attacchi, ce la potete anche fare. Tipo, qua. Voi volete quel territorio? Fate così. Voi volete questo? No, questo ho detto. Capiscono un cazzo ogni tanto ragazzi sti qua. Ok. Ok. Ok, perfetto. Facciamo riandare. Ma chi ti ha detto di attaccare? Ma... Fuori di testa ragazzi, fuori di testa. Cioè ok che ci sono le offensive in corso, però delle volte i bersagli che si prefissano per le offensive sono non stupidi. Di più. Di più. Tra l'altro abbiamo finito una tecnica navale, sì che più che tecnica è una ricerca navale. Light cruiser li stiamo facendo di livello molto basso. E stessa cosa vale per le battleship... Per le battleships, ecco. Non abbiamo i carrier, ovvero le porta aerei. E cominciare a ricercarle non sarebbe una pessima idea. Anche se penso che non riusciremo a utilizzarle a sto punto in questa guerra. Anche perché al momento la nostra flotta è questa. E comunque non penso che possa reggere il confronto di quella inglese o comunque anche solo di una alleata. Vabbè ragazzi, ci si prova. Ci si prova, vediamo come va. Dai, provate ad aiutarli anche voi. Ah, che avanzata difficile. Dai, raggiungiamo... aspettiamo che sia il 17 così possiamo dichiarare guerra al Tibet e poi stop. Tra l'altro loro potrebbero fare i furbacchioni e cercare di invaderci, ma penso che saranno abbastanza occupati a invadere il nostro paese. Cioè, a difendere il loro paese piuttosto che invaderci a loro volta. Abbiamo altre fabbriche disponibili e le lancio sul... Ok, una di supporto può servire. E ancora fighter. Abbiamo bisogno anche di altro alluminio. Fai partire il tempo. Construction, rake rate... Dov'è? 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 No, abbiamo ancora il surplus. Bene. Abbiamo giustificato contro il Tibet. E guerra. Oh, guarda che simpatico il leader. Simpaticissimo e guerra. Ok, partite. Partite. Oddio, questa è una divisione del Siam. Allucinante. Le hanno rirecultate. In ogni caso, ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate qua sotto un bel mi piace. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e commentate. Ave a tutti i legionari, ci vediamo nel prossimo episodio di questa fantastica campagna su Earth of Iron 4, con il nostro meraviglioso nuovo Impero Ottomano. Grazie a tutti.